Al di sopra di tutto l'amore è stato il titolo dell'Assemblea Diocesana che ha dato il via al triennio della Carità. La due giorni si è tenuta la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli e in collegamento streaming con i vari vicariati della Diocesi. Il primo giorno, dopo un iniziale momento di preghiera e i saluti del Padre Vescovo, è seguita la relazione di Rossana Galiandro, direttrice della Caritas Diocesana, che ha introdotto i partecipanti nel tema profondo della Carità spiegando come si articolerà il cammino diocesano. Chi è il mio prossimo? Come essere famiglia, economia per tutti, saranno i punti principali che verranno affrontati rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno. L'incontro si è concluso con i laboratori dei gruppi di lavoro che hanno coinvolto ciascun vicariato. Sabato mattina, dopo la celebrazione dell'ora media e la conclusione dei lavori di gruppi, sono stati illustrati gli spunti e le riflessioni emersi dai laboratori stessi. Sono seguite le conclusioni del Vescovo Domenico, che ha dato a tutti appuntamento all'Assemblea di settembre.